Ciao, mi chiamo Giulie e ho frequentato la scuola di lingua italiana Dante Alighieri a Siena in 22-18, impiegando quattro settimane per immergermi nella lingua, nella cultura e nella vita di Siena in Italia. Il personale docente della scuola è stato cordiale e informato, offrendo sessioni piacevole e produttive a me stesso e agli altri studenti adulti che venivano da molti altri posti in tutto il mondo. È stato molto divertente guardare una parola italiana sconosciuta tradotta in altre lingue fino a quando non è stata raggiunta la massima comprensione del gruppo. Mi è piaciuto che il personale abbia valutato i nostri requisiti emirato all'apprendimento di conseguenza. Il personale amministrativo è stato molto utile. Erano disponibili quando ho posto le solite domande che le persone hanno in un nuovo posto. Le disposizioni relative all'alloggio e il trasporto procedevano senza intoppi. Le visite guidate a piedi della scuola di Siena erano leggibili e informali, rivelando gemme nascoste all'interno di strade e piazze il ordinare dove prima avevo camminato in aro. Le lezioni del cucino sono state divertenti. Abbiamo preparato e consumato pasti a cinque portate di piatti locali e italiani, mentre assaggiamo bellissimi vini. Tutti supervisionati da insegnanti, chef femmini rossi ed esperti. La gustazione dei vini e i pasti presti nei ristoranti locali hanno aggiunto un altro livello alla nostra esperienza linguistica. Come molti altri prima di me, spero di tornare di nuovo a Dante Algari.